vai 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 ehi 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 ho andato a peccarsi i vostri e te non vai a tempo e te si andava hai sbagliato anche le note vai 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 quella cosa è quella perché non partite che parte dai canna questa cosa vai con te si partite dai canna te lo do diciamo così per fare sai come è solo sai come è solo 1,2,3 non partite chi non partite non partite qui vuoi sono è solo è solo è solo è solo è solo è solo Grazie per la visione 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 Grazie per la visione